Per i due minuti di riscaldamento, il gruppo West Side Story. Questa oggi presentata è una grande storia d'amore ispirata alla tragedia di Shakespeare. I protagonisti sono Tony e Maria, due giovani che si innamorano nonostante facciano parte di due bande ben distinte. I bianchi new yorkesi e i portoricani. La loro storia amorosa incontra inizialmente... Questa oggi presentata è una grande storia d'amore ispirata alla tragedia di Shakespeare, Romeo e Giulietta. I protagonisti sono Tony e Maria, due giovani che si innamorano nonostante facciano parte di due bande ben distinte. I bianchi new yorkesi e i portoricani. La loro storia amorosa incontra inizialmente molte difficoltà, in quanto le due fazioni non accettano questa unione tra i rivali. Ma alla fine il loro amore nesce vittorioso e contagia tutti i protagonisti della storia, che esprimeranno questa pace ritrovata con una danza in gruppo. Ecco a voi, West Side Story. La loro storia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Maria 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 Maria